pensi che sia una foto, invece è un video è un video normale o un video spinge? no, è un video normalissimo questo sono partito da te che sei in testa adesso partiamo con un video seguiamo un po' si fa anche un punto come hai fa un asso fuori di qua, un cappa di light mettersi una cappa non è così sbagliata devi mettere 13.000, hai messo 7.50 era già convinto da subito di metterlo ma c'ha anche l'audio? si, quindi non si possono dire le parole a te lo senta, lo viene censurato ma c'è un po' camminiamo in mezzo ai tavoli andiamo al tavolo 18 dove incontriamo Grande Alba seduto al tavolo 18 una mano importante a tavolo 18 a tavolo 18 passiamo ora al tavolo 19 a tavolo 19 a tavolo 19 a tavolo 19 vediamo Daniele Marzia al tavolo 19 signore c'è un bisogno di spostamento a tavolo 19 a tavolo 19 vediamo il direttore del torneo che fa spostare un giocatore fa spostare un po' ecco signor il secondoeminacale è la 5.6 la signora non lo aveva 100 a tavole 19 Grazie.